Si avvicinano le elezioni comunali 2021 a Castellabate, che andranno a comporre la nuova giunta dopo i colpi di scena degli ultimi mesi, con la rinuncia alla carica di primo cittadino di Costabile Spinelli, attualmente sostituito dal sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. Proprio in vista delle elezioni, il consigliere d'opposizione Luigi Maurano, da sempre molto attivo nel suo ruolo, si appella ai cittadini con un videomessaggio, definendole come un appuntamento fondamentale per il futuro del territorio e delle nuove generazioni. Castellabate merita una politica più nobile. Mi appella a tutti i cittadini che in questi anni hanno pensato che un cambiamento vero fosse necessario. Uniamoci per dare un contributo alla rinascita del Comune. Mancano ormai solo sette mesi alle elezioni comunali. Un appuntamento importante e fondamentale per il nostro territorio. C'è da programmare il futuro per le nuove generazioni, per i nostri coetanei, per i nostri figli, per i nostri nipoti. E c'è bisogno di farlo insieme, di unire le menti, le idee e i cuori. Ora è il momento di farlo, ora bisogna partire, perché tanto c'è da fare e non possiamo perdere tempo dietro giochi di palazzo e accordi caso mai fino alla sera prima della presentazione delle liste. Castellabate merita una politica più alta, merita una politica più nobile. In questi anni abbiamo messo al centro della nostra azione i temi e da questi bisogna partire per rinnovare e dare la svolta giusta al Comune di Castellabate. Tante sono le criticità, tanti sono i problemi da risolvere, ma tante sono anche le opportunità da cogliere, tante sono ancora i progetti da realizzare e pensare insieme. Il mio quindi è un appello a tutti i cittadini di Castellabate, a tutti coloro i quali in questi anni hanno pensato che un cambiamento fosse necessario, ma un cambiamento vero, a tutti coloro che anche per una sola volta hanno pensato ad un miglioramento, ad uno sviluppo diverso del territorio, a tutti quelli che è stato negato un proprio diritto ed hanno capito che non è più possibile né tollerabile girare la testa dall'altra parte. A tutti voi io dico uniamoci, non ci sono posti, non ci sono ruoli già prestabiliti o già assegnati. C'è solo la voglia di stimolare e incentivare le donne, gli uomini, i ragazzi di questo territorio affinché diano un contributo unico e fondamentale per la rinascita e per il rinnovamento sociale, culturale, economico, turistico del comune di Castellabate. Scriviamo insieme il futuro senza esitazioni, senza paure, perché Castellabate ha bisogno di persone competenti, ha bisogno di persone serie, ha bisogno di persone oneste. In una società dell'io contrapponiamo il noi perché insieme saremo invincibili.